Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, benvenuti nel racconto multimediale. Mi avete segnalato in tanti, allora oggi in uno dei due contenuti di giornata ne parliamo e approfondiamo come sempre, questo intervento di Zazza in televisione dove, discutendo, va a sostenere che il VAR è stato in Italia introdotto anche, anche, per fermare la Juventus. E allora, iscrivetevi anzitutto al canale che è importante, un bel like al video, i commenti, la campanella per essere raggiunti, raggiunti o comunque vestiate, magari mettetela sopra il vostro albero e vediamo l'effetto che fa. Allora, che il VAR sia stato introdotto anche per quel motivo penso che non sia un mistero, ma dal punto di vista propedeutico al divertimento del campionato, perché sennò sembra che uno inizia a vedere dei complotti, delle manovre politiche, come se il calcio fosse fatto di stanza, di salotti, di politica, di complotti, di morse, tua, vita, mea. Dai, non è mica fatto di quelle robe, vedi il calcio. Però l'avete sentito in molte salse, ribadito più volte, che il VAR poteva servire per evitare gli errori, e in quegli anni, ma non solo in quegli anni, dicevano che la Juve vinceva anche grazie agli errori arbitrali. Quante volte avete sentito, ma perché non introdurre i playoff, perché se vince sempre la stessa squadra in Italia, poi crollano gli ascolti, le attenzioni? Come no? Quando è che sono crollati gli ascolti, le attenzioni, la vendita, i diritti televisivi, quando l'avete stangata, penalizzata e quasi estromessa dalla partita? Altrimenti no, ma comunque avete sentito tutte quelle cose che improvvisamente sono sparite e non se ne parla più. Adesso il campionato è bellissimo, così è tutto a posto, va benissimo, quando all'estero, ma se del Bayern Monaco, piuttosto che altre situazioni, vince scusate di fila e nessuno si permette di pensare o ai playoff, o a inserire un VAR di turno, o a pensare a qualcosa per impedire, per fermare, per frenare la cavalcata del Bayern di Monaco. Ma questi sono argomenti che abbiamo già tattato in lo tempo, ma che la gente si dimentica. Torniamo alla realtà, perché è interessante il dibattito in studio. E allora, finalmente, benvenuti nel mondo della realtà e non dell'irrealtà. Si parte da un dossier Juve, che è la Juve che sta zitta, non si lamenta, nessuno dice niente sugli arbitri, però c'è questo dossier che finalmente, televisivamente, si vuole andare ad affrontare. E allora vedi che quando però poi vai a prendere le partite della Juve, ti accorgi anche tu, televisione che fai il tuo mini dossier, che in ogni partita della Juve ci sono degli episodi grandi, clamorosi. Compare incredibilmente anche Juve-Bologna, dove prima del rigore che reclama il Bologna, ce ne sono due reclamati della Juve, più un golletto annullato. E si vanno a vedere effettivamente i rigori. C'erano, come abbiamo sempre detto noi. E quindi, partiamo da questo presupposto. Nelle partite della Juve ci sono degli episodi eclatanti contro la Juve. Prima obiezione di quello che fino a ieri è vissuto nel suo mondo irreale, fatto di carta, e che improvvisamente si trova al cospetto della realtà, adesso che sono loro primi in classifica. Ebbè, ma se fai vedere quel rigore per la Juve, devi fare vedere anche quello per Inzaghi ieri. Allora, intanto, sono diversi, perché quello della Lazio sta fermo, quello del genere è il movimento, ma al di là della diversità, cosa c'entra? Stiamo facendo vedere che la Juventus è penalizzata dal punto di vista arbitrale. E poi, attenzione, quello che abbiamo sempre detto noi, dal 1900 ad oggi. Noi non ce l'avamo nel 1900, ma qualcuno sicuramente sulla panchina di Corso Massimo D'Azeghi avrà alzato il dito e avrà detto, oh, quando ci sarà la televisione? Perché gli episodi ci sono per tutte le squadre. Ma dai, ma che scoperta! Ma è incredibile. Se prendiamo il campionato alla, cos'è, quindicesima giornata, e prendiamo tutte le squadre, tutte le loro partite, ci accorgiamo che ci sono episodi per tutte le squadre. Ma tu pensa che nel famoso 98, l'anno in cui ancora adesso loro accampano allo scandalo mondiale del calcio con Giuliano Ronaldo, se vai a vedere gli episodi della squadra, la tinta e nera azzurra, ci sono, dico, 15, ma ben 15 partite con episodi clamorosi a favore. Ma guarda, ma come mai lì non si sono mai presi in considerazione? Adesso improvvisamente si vorrebbero vedere gli episodi di tutte le squadre. benvenuti anche voi nel mondo della realtà e non della fantasia. E poi naturalmente cosa facciamo? Spostiamo l'alticella. E allora questa discussione è arbitrale, meramente arbitrale. Beh, ma volete dire che chi sta in testa alla classifica non se lo sta meritando? Allora, intanto questa cosa qua andava detta anche alla Juventus tutte le volte che era in testa alla classifica, mentre anche nell'epoca dei nove incredibili e indiscussi scudetti consecutivi si è trovato il modo di discuterli. Una volta per lanciare l'avversario, una volta per il giallo di Pjanic, l'altra volta per gli spostamenti in albergo, l'altra volta per il mercato fatto in una certa maniera, l'altra volta per questo e l'altra volta per l'altro, l'altra volta non aveva vinto in Europa e quindi allora era sminuito e bam, è il livello del campionato italiano, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi adesso che lo sta vincendo qualcun altro si discute anche il campionato di qualcun altro. Dopodiché, no, no, non sei lì per merito se hai quattro punti di vantaggio con episodi a favore tu e episodi a sfavore io. Altro conto quando negli anni in cui parlavate voi c'erano episodi per tutte e due che non li volevate affrontare e vedere. Ma se guardiamo il campionato di quest'anno e parliamo solo di episodi arbitrali, no, chi è in testa non è lì per merito, perché dovrebbe avere sei punti in meno e noi quattro punti in più. È molto semplice, basta analizzare gli episodi arbitrali. Dopodiché, uh, che barba tutta questa discussione, ma vogliamo parlare un po' di calcio, vogliamo parlare un po' di campo. Oh, e come mai noi nella vita che vogliamo parlare di campo, vogliamo parlare di calcio e invece ci fate parlare di tribunali, di arbitri, di superleghe, come mai tutte le volte che noi vogliamo parlare di calcio, voi ci mettete, voi mondo del calcio, ci mettete in mezzo un argomento diverso da quello che è il campo, da quello che è il calcio. Stiamo vedendo adesso quello che sta succedendo alla Next Gen della Juve, l'aveva detto Agnelli, prima di andarsene in tempi non sospetti. Costa soldi quella Next Gen lì, costa un sacco di soldi, invece che agevolarla, si creano dei regolamenti e delle situazioni per contrastarla. Perché se, disgraziatamente, adesso la Next Gen della Juve, dalla Serie C, dalla Lega Pro, scende in D. Finito il progetto, un sacco di giocatori che ti rimangono incostati che non sai neanche dove mandare in prestito, tra l'altro. Le regole per agevolare chi ha delle visioni nel calcio, vede il futuro e vuole far crescere i giovani, eccole lì. Benvenuti nel mondo dei club che parlano di campo e operano sul campo e che invece improvvisamente si vedono costretti a parlare d'altro. Ma come se non bastasse tutto questo, siccome questa incredibile, voglio dire, 20 minuti, 30 minuti, non so quanto è durata la trasmissione su degli errori che ha subito la Juve sulla messa in discussione del sistema campo arbitrale da chi sta per vincere lo scudetto. Ma non vogliamo tirar fuori un rigorino per il Genoa, dai, dai. Ma tiriamo fuori un rigorino per il Genoa, eh? Ex arbitro di Genoa. Tiriamo fuori un rigorino per il Genoa, quella di cambiaso che tutti e due si strusciano e vanno per terra. Beh, ma allora, visto che siamo sul livello di episodi per tutti, ma se tiriamo improvvisamente su il mezzo rigorino, come lo definite voi, a favore del Genoa, e allora parallelamente, perché non tiriamo su il mezzo rigorino, come lo potrei definire io a favore della Juve, quando Vlauvi c'entra in aria e gli viene tirata la maglietta per poi improvvisamente staccare la mano, come hanno detto in telecronaca, al punto giusto, al momento giusto per evitare di farsi dare il calcio di rigore. Allora, se tiri fuori quella roba lì, avete detto che bisogna parlare degli episodi di tutte le squadre, allora devi tirare fuori questa roba qua. Tu tiri fuori quello lì e io tiro fuori questo qua. Facciamo che i due mezzi li eliminiamo e rimane un braccio largo di Bani che è calcio di rigore e un cartellino rosso a Malinoski che l'arbitro manco aveva dato il giallo e il fallo. E siamo all'ottantanovesimo e quindi e tu fammi giocare con il cartellino rosso poi tre minuti, magari, visto che sono anche un po' pochini, diventa il 5 di recupero più 1 o 6, ma anche se fossero 3, fammi giocare tre minuti in superioreità numerica e vediamo se le tre azioni che ho a disposizione in tre minuti con l'uomo in più magari faccio gol e vinco la partita. Non si può? No, perché a Monza è successo a Monza è successo in parità numerica che in 30 secondi sono andato dall'altra parte e ho vinto la partita. E quindi fammi giocare anche con il cartellino rosso in superioreità numerica. E allora pesiamoli gli episodi e vediamo che incredibilmente per vostra, voglio dire, grande sorpresa la storia se analizziamo gli episodi di tutte le squadre e tutti i campionati vi dirà qualcos'altro tipo la famosa favola dei cartellini che abbiamo visto che è la squadra più ammonita piuttosto che i calci di rigore che non ha certo la Juve che li prende nella storia. Chiudendo andiamo sul Vara Chiamata perché questa è la chicca. Siamo arrivati al Vara Chiamata. Allora ragazzi, il Vara Chiamata su cui si può discutere a vita sarebbe una bellissima cosa. Non fosse che prendiamo proprio l'esempio di questa partita di cui magari sentiremo l'audio VARN alla prossima puntata va anche delle partite scorse di massa. Per esempio quella di Napoli, ricordate, lui dice non è fallo, fidati tutta la vita e al VAR avallano. Quindi, il VAR non interviene, io lo chiamo, ma se l'arbitro ha detto non è fallo e il varista ha detto non è fallo, se anche io lo chiamo non è che cambia idea. Cioè, qui stiamo andando su un presupposto che è irreale e non rispetta quello che succede veramente nella sala di rissone. Non è che quando il VAR non interviene non ha visto l'azione, l'ha vista. L'ha vista e l'ha giudicata come l'arbitro. Quindi, se anche tu lo chiami e dici scusa, te la puoi rivedere? Lui ti dice ma l'ho già rivista, per me non è rigore, per l'arbitro non è rigore, per me non è fallo, per l'arbitro non è fallo, per me è gol, per l'arbitro è gol. Non è che se tu chiami il VAR cambia qualcosa, ma siamo sempre lì. È la differenza su chi affronta il calcio e magari anche la vita dentro la realtà dei fatti e chi nella solita realtà. Voi siate reali, iscrivetevi al canale, un bel like al video, commenti e campanella. Che Natale fra un po', eh?